Siamo qui con Caterina Bosetti nel ritiro della Nazionale Azzurra di Volley. Caterina, raccontaci un po' questi primi dieci giorni di lavoro. Beh, sicuramente sono stati giorni molto intensi perché abbiamo lavorato tanto, soprattutto a livello fisico, in piscina, in sala pesi, e quindi comunque dopo un periodo di stop è abbastanza stancante. Però diciamo che penso che stiamo bene nonostante la fatica, quindi abbiamo risposto alla grande. Essere giovane in Nazionale vuol dire anche dover dimostrare tanto. In tuo parere? Beh, io spero di aver dimostrato sempre quando entro in campo, entro in campo per dimostrare qualcosa, per guadagnarmi qualcosa. Niente, quindi spero di averlo fatto se sono qua. Dopo Londra arriva la possibilità di giocarti un mondiale in casa. Sei pronta per mettere in difficoltà Mr. Bonitta? Ed in che modo pensi di poterlo fare? Boh, sicuramente se sono qua. Non sono qua per così, ma per giocarmi il posto. allenandomi tutti i giorni forte, essere sempre disponibile, cercare di migliorarmi anche nell'estate, per poi arrivare nelle 12 del mondiale. Hai giocato in Brasile. In cosa pensi di essere cresciuta lì? Ma un po' in tutto, sia a livello palavolistico che a livello personale. A livello palavolistico penso di essermi completata un po', che avevo bisogno di fare questo salto. E a livello personale comunque vivere lontanissima aiuta a crescere. Ecco, cosa pensi di poter portare a questa nazionale della tua esperienza brasiliana? Beh, sicuramente la palavolo brasiliana è, penso, la più forte al mondo in questo momento. Quindi io che sono abituata a giocare, comunque ho preso l'abitudine quest'anno a giocare un po' nel loro stile, spero di portarla. La palavolo brasiliana comunque è molto esultare così, quindi spero di portare la mia grinta anche in questa nazionale. Ci sono sempre molte aspettative su di te. È difficile convivere con una responsabilità del genere per te? Ma no, perché alla fine se non ci pensi è meglio, quindi io evito di pensarci e vado avanti per la mia strada. Faccio quello che è meglio per me e poi arrivano i risultati. Quindi di aspettative non è che se sto lì tutte le volte a vedere cosa dice uno, cosa dice l'altro, non vado più avanti. Ma come penso io, ma tutte fanno così, tutte le giocatrici. Cosa pensi di poter apprendere dalle giocatrici più esperte di questa nazionale? Ma comunque da qualcuna si impara tutto, anche se non è esperta. Anche dalla più giovane si impara sempre qualcosa, perché allenarsi insieme è anche questo, bisogna imparare dalle altre. e spero di apprendere i punti di forza di ognuno di loro. Trova un aggettivo per descrivere questa nazionale. Oddio. Vogliosa. Grazie mille. Grazie, ciao. Ciao.